Si scalda la situazione al GFVIP. Stefania Orlando viene messa sotto accusa da Diane Mello e Cecilia Capriotti per la sua intenzione di indicare per la nomination i nomi dei nuovi entrati, tra cui la stessa Capriotti e Carlotta dell'Isola. Quando la modella brasiliana lo riferisce alle due ragazze queste ci rimangono malissimo. L'ex dell'Isola dei famosi si sfoga, fa tanto l'amica delle donne e poi l'ho idealizzata allora. La stessa Mello ha poi un confronto piuttosto vivace con la sugarle romana, che però ribadisce la sua linea. Pur non avendo fatto nomi su chi intende fare eliminare, terra fede allo zoccolo duro del GF. Voglio portare avanti i veterani che hanno iniziato con me. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un like di supporto. Grazie. 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 Grazie.